La Corte Suprema Greca è chiamata a pronunciarsi sulle pensioni ai tempi dell'austerity. Dovrà dire se i tagli del governo in base ad una legge del 2012 siano stati legittimi. Sono circa 6.000 le cause pendenti nei tribunali greci che attendono questa sentenza, 2 milioni e mezzo invece i pensionati che potrebbero rivalersi sul governo di Atene. La nostra vita è diventata un dramma. Non possiamo sicuramente rimetterci in pista per cercare un lavoro, mi tocca sopravvivere con 1.000 euro, ma non sono solo, ho anche i miei nipoti da aiutare. Stando invece ai calcoli, ecco anno per anno, dal 2013, quanto dovrebbe lo Stato greco nel caso di un pronunciamento a favore dei pensionati. Il costo totale ammonta a 10 volte il denaro che lo Stato greco ottiene dal tassare le proprietà immobiliari, dicono fonti governative. Dopo la pronuncia il governo greco si troverà di fronte a un dilemma rimborsare tutti o solo i pensionati che potrebbero effettivamente andare in tribunale. In questi anni i pensionati in Grecia non hanno smesso di manifestare, arrivando al punto di non ritorno di oggi.